Una miniera d'oro che molto probabilmente non sai di avere. Ciao, sono Nevio Zucca e mi occupo di marketing B2B. In questo video voglio raccontarti quella che molto probabilmente è una vera e propria miniera d'oro che nemmeno sai di avere. Perché ti dico questo? Ti dico questo perché confrontandomi spesso con imprenditori, con aziende, ho la fortuna di lavorare con moltissime aziende e con il mio team di settori diversi e ho visto che tutte praticamente queste aziende non si rendono conto di avere un vero e proprio patrimonio che non sanno proprio di avere. Patrimonio cosa vuol dire? Beh vuol dire che hanno in casa del fatturato che non sanno di avere. Se hai un attimo di pazienza adesso ti spiego in che cosa consiste. C'è solo una condizione che deve esserci, che tu nel corso degli anni un po' di attività di marketing l'abbia fatta. E' chiaro che se tu hai fatto negli anni diverse attività di marketing questo patrimonio è un patrimonio importante, se invece tu ne hai fatta poco, che poco vuol dire anche magari che ne so soltanto un po' di passaparola o relazione, comunque questa miniera d'oro c'è. Sto parlando di che cosa? Di tutti quei lead che non si sono trasformati in clienti. Tecnicamente in America li chiamano gli unconverted lead. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu, io, ma tutti noi entriamo in relazione con delle aziende, adesso stiamo parlando di contesti tipo B2B, che sono in target per il nostro servizio, per il nostro prodotto, ma che per n motivazioni diverse non sono diventate dei clienti. Ti faccio una serie di esempi. Tu vai in fiera, ok? Partecipi ad una fiera, entri in relazione con dei clienti potenziali, torni dalla fiera, inizi un dialogo, parli, e quel cliente però non è diventato un cliente pagante. Piuttosto che fai una campagna sponsorizzata su Google, generi dei lead, e non tutti quei lead diventano dei clienti paganti. Ma pensa alla tua rete vendita, pensa agli appuntamenti che fa la tua rete vendita, quanti di quei appuntamenti si trasformano in clienti e quanti in realtà non sono clienti, ma pensa anche alle trattative che tu hai fatto, alle offerte che hai presentato. Tutti noi vorremmo che il 100% dei lead diventi 100% dei clienti, ma la realtà non è questa. Si parla di fan, si parla di imbuto, la parte è una parte alta, man mano che si scende si arriva a convertire l'1, 2, 5, 10%, dipende dall'attività, dipende da molte variabili, però sicuramente stiamo parlando che la stragrande maggioranza delle aziende con le quali noi entriamo in contatto, oggi non comprano i nostri prodotti e servizi. Per motivazioni diverse, dalle più serie, le più banali, ok? Ma questo fa parte dei giochi, cioè il nostro cliente potenziale non diventa un cliente pagante perché in quel momento le condizioni non sono le condizioni ideali. Allora, se ti ritrovi in questo contesto e tutti noi, mi sento di dire, ci troviamo in un contesto di questo tipo perché tutti noi abbiamo una serie di lead che non diventano poi dei clienti acquisiti, beh sappi che questo rappresenta un vero e proprio patrimonio. La miniera d'oro che tu non sai di avere è proprio questa. È chiaro che in questo momento mi rendo conto che tu potrai dire sì, ok, ma che cosa significa una miniera d'oro? Cioè mi stai dicendo che ho una serie di opportunità che non sono diventati dei clienti. Cosa vuol dire miniera d'oro? È un limone che ho spremuto e però non è diventato del fatturato. E adesso ti spiego quello che devi fare. Allora, tu hai sostanzialmente due possibilità. La prima è quella che tendenzialmente tutte le aziende scelgono probabilmente inconsapevolmente. Cioè viene fatto anche un investimento in marketing, quindi adesso sto parlando di un'azienda che magari del marketing lo fa perché partecipa ad una fiera, fa le campagne sponsorizzate, investe. Quindi questo investimento, opzione 1, per la sua maggioranza è un investimento a perdere. C'è un investimento che non ti porta ad un cliente acquisito, non ti porta del fatturato. Perché? Perché fa parte dei giochi, non riesce a controllare tutte le variabili e quindi una fetta importante più del 50% di questa opportunità, più del 50% di questo investimento è come se tu lo buttassi fuori dalla finestra. Ma c'è un'opzione 2. Se vuoi approfondire poi nel dettaglio anche il tuo caso specifico, capire quello che si può fare e quello che non si può fare, ci contatti tramite il link che trovi nella descrizione di questo video e assieme a te costruiamo una strategia efficace e vediamo magari di portarti a seguire la seconda strada che adesso ti vado a descrivere. Qual è questa seconda opzione? E qual è quindi questa miniera d'oro che si trasforma però in oro reale e non soltanto in una potenziale, in un potenziale inespresso? Se tu quei lead che non sono diventati clienti li coltivi nel tempo. Cioè il segreto, ma non è in realtà un segreto, quello che voglio però che ti passi come messaggio è se tu prendi tutti quei contatti, tutte quelle aziende, tutte quelle opportunità che non si sono trasformate in clienti e inizia a farci sopra periodicamente nei momenti giusti, ma inizia a fare delle attività di marketing specifiche nel tempo, tu vedrai che non il 100% di quei lead non convertiti, una fetta grande o piccola si trasforma in un cliente che mette timbro e firma ad un tuo contratto. Ci è capitato un sacco di volte di aziende che hanno deciso di iniziare un percorso con la nostra agenzia dopo due anni di distanza dal primo contatto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un CRM, vediamo tutto, tracciamo tutto e abbiamo visto che cosa? Che magari oggi abbiamo acquisito un cliente, un cliente che però era entrato in contatto con noi due anni fa e che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che due anni fa quell'azienda non era pronta, non era pronta a fare un'attività, di marketing di un certo tipo, non era ancora pronta per implementare delle strategie, insomma ora non conta la motivazione, la motivazione potrebbe essere a fare. A due anni di distanza però sono diventati clienti, perché? Perché hanno visto una serie dei nostri messaggi, una serie delle nostre comunicazioni, hanno capito che noi siamo gli specialisti nel B2B, hanno capito che noi abbiamo delle garanzie uniche, abbiamo capito che siamo gente che lavora in questo contesto da 30 anni, hanno capito che siamo la realtà giusta, l'unica che può risolvere una serie di loro problematiche. A due anni di distanza sono diventati dei clienti, ma non sarebbero mai diventati clienti se noi non avessimo fatto costantemente delle attività di marketing nei loro confronti. La più banale e la più semplice, manda periodicamente delle comunicazioni a quei lead che non sono diventati convertiti. Informazioni utili, informazioni interessanti, puoi mandarle via email, puoi stampare la newsletter cartacea, qui adesso tu non la vedi ma sulla nostra scrivania abbiamo le nostre newsletter cartacee pronte a partire, cioè mantieni un filo conduttore costante con il tuo cliente e vedrai che quando lui è pronto si ricorderà di te. Ma si ricorderà di te perché? Perché tu costantemente mandi delle comunicazioni che tengono la relazione con quel cliente. ma non è soltanto questo, perché ovviamente adesso ti sto parlando di quello che tecnicamente si chiama funnel di lungo periodo, cioè è quel mantenere viva una relazione costante nel tempo con tutte quelle aziende in target, ma che non hanno acquistato in uno specifico momento. Perché se oggi un cliente potenziale ti dice di no a una tua proposta, sei in target, quel no è un no specifico di un momento preciso. A distanza di un giorno, di un mese, di un anno, non è che il no resta per sempre, le condizioni possono cambiare e il no può diventare un sì, semplicemente perché io ho mantenuto una relazione costante con il mio cliente. Ma quello che tu puoi fare anche è, se hai sempre un CRM con tutte le informazioni e hai quindi organizzato bene questa parte qui, tu puoi fare anche delle campagne specifiche, cioè tu puoi periodicamente prendere quelli che sono i lead che non sono diventati clienti tali, gli fai una promo, un'offerta irresistibile con una scadenza e vedrai che in un momento diverso dell'anno quello che era un no diventa un sì. Perché? Perché tu ci hai fatto sopra una campagna di marketing, perché tu hai fatto una promo dedicata, quindi hai rimesso in circolo quel lead non convertito nel tuo marketing con un fan specifico e hai trasformato quelli che erano dei lead, che potevano essere dei lead buttati nell'immondizia, a del fatturato che ti porti a casa. Quindi quello che voglio dirti io è, attenzione che tutte le aziende, consapevolmente o inconsapevolmente, delle attività di marketing le fanno. Più marketing fai, più questo patrimonio è un patrimonio importante, che potresti non sapere di avere. Cioè la miniera d'oro sulla quale tu potresti essere seduto è rappresentata da quei lead, che spesso sono veramente tanti, che non sono diventati clienti, che sono frutto però di un investimento, che possono però trasformarsi in denaro per te, purché tu prenda quei contatti e faccia delle azioni di marketing specifiche e durature nel tempo. Se vuoi che analizziamo magari questa situazione specifica per il tuo contesto e cerchiamo di capire se magari facendo anche poco sforzo su questi lead che non hai convertito possiamo portare a casa anche un risultato importante, beh trovi un link nella descrizione di questo video, ci contatti e senza impegno costruiamo una campagna efficace che trasformi questa miniera d'oro, che magari tu non sai di avere, in oro che poi tu possa trasformare in denaro per la tua azienda.